allora vabbè lo avrete già sicuramente capito anche dal titolo non parliamo solamente di juventus non parliamo solamente di juventus cremonese andremo a toccare anche il tasto barcellona che oggi ufficialmente è diventato campione di spagna credo che due paroline sono anche abbastanza doverose detto questo vi saluto immediatamente ciao è bella a tutti da me vi chiedo semplicemente di lasciare mi piace su questo contenuto per continuare a supportare i miei contenuti calcistici fatelo anche se volete in merito il parere del buon fabio non solo sulla juventus ma anche sul barcellona iscrivetevi e deve esprimere il suo parere sulla roma e su tutte le partite di oggi iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati vi ricordo che questo non è l'unico canale di calcio che ho ne ho un altro e se lì non siete iscritti e non avete la campanella attiva oggi vi siete persi due video non aggiungo altro anzi sì c'ho anche un canale youtube extra calcio dove col buon fabio nei prossimi giorni nelle prossime settimane usciranno tanti contenuti particolari canali in infobox durante il video compariranno qui allora io parto dal barcellona e poi passiamo all'analisi della partita della juventus che ovviamente ha vinto ripensando a bocce ferme ripensando a quelle che potevano anche essere no le aspettative è particolare vedere il barcellona campione di spagna a quattro giornali dal termine in realtà è perché ancora mancano quattro giornate in un derby contro l'espagnol nel momento in cui sto registrando sta vincendo 4 a 1 quindi è acquisito il risultato o far 4 a 2 l'espagnol sì l'espagnol o far 5 a 1 il barcellona cambia veramente poco no è la vittoria che li porta matematicamente a vincere la liga il dato che più mi lascia a bocca aperta ragazzi è la difesa sono i gol che il barcellona ha subito in 34 giornate a meno che negli ultimissimi minuti dei partiti non ne subisce 6 dall'espagnol ma 12 gol subiti in 34 partite giusto per farvi un esempio l'atletico madrid che c'ha un allenatore come simeone che sapete no quali sono i suoi dettami tattici in 34 partite ne ha subiti 27 il barcellona quest'anno è stato in grado in grado tra virgolette di subire solamente 12 reti e di farne 64 non è il migliore attacco perché ovviamente c'è da mezzo anche il real madrid ma gli ha dato la bellezza dei 14 punti di distacco ragazzi un percorso un cammino che praticamente non è mai stato messo in discussione per la situazione societaria del barcellona per tutto quello che ha ruotato intorno al barcellona anche per situazioni extracampo mi verrebbe da dire no le difficoltà di vabbè se partiti in realtà da messi non può rimanere via dicendo per il san germain il fatto per il salary cap è questo non lo posso è perché lo stipendio è perché allora devo fare spazio devo fare questo devo fare quella alla fine io mi ricordo dissi quando il barcellona ha cominciato a comprare giocatori ultimamente l'ultima campagna acquisti dissi io il barcellona sta secondo me comprando giocatori a caso giusto per far cumulo e giusto per mettere in piedi una squadra decente per provare a tornare grandi invece mi devo ricredere perché poi alla fine lo abbiamo visto quello che ha fatto il barcellona il barcellona soprattutto con lewandowski che ha voluto fortemente il barcellona e che è capocannoniere meritatamente però hanno dato una svolta veramente incredibile e sono tornati a vincere e ripeto non era facile perché poi c'è lo strapotere e l'egemonia del real madrid in europa abbiamo visto il real madrid negli ultimi anni quante champions league ha vinto no poi c'è il paradosso del barcellona fuori da coppe europee via dicendo però intanto riportare un trofeo così importante non era per niente facile io vi faccio i complimenti perché onestamente parlando è tanta tanta roba ecco chiusa la parentesi barcellona ragazzi veniamo alla partita della juventus veniamo juventus cremonese io non ho parole se penso a poco va perché io non lo so sto ragazzo veramente ha una maledizione non lo so quello che gli è successo però incredibile mi metto scusatemi mi metto nei panni di un tifoso della juventus che oggi prima della partita durante le formazioni ufficiale avrà pensato finalmente torna titolare vediamo quello che può dare questo pogba no a pieno regime no al massimo della forma perché se lo rischiera titolare perché evidentemente insomma ha raggiunto una forma fisica adeguata infortunio muscolare e io ipotizzo che la stagione è bella candata se ne riparla l'anno prossimo io faccio un grosso in bocca al lupo e mi dispiace veramente tanto per la persona innanzitutto e per la sfortuna che ha avuto sono cose che non si augurano assolutamente a nessuno e incredibile spero che possa tornare ad alti livelli perché io credo che che non sia un calciatore finito come tanti lo lo etichettano sicuramente c'è avuto tante situazioni che lo hanno che lo hanno demoralizzato ecco mettiamola così anche situazioni extra calcistiche però io auguro veramente il meglio detto questo ragazzi oggi per la gremonese è strano a dirsi ma sarebbero stati tre punti fondamentali per continuare a sperare no della salvezza dici ma tu in casa da juventus pretendi di vince ci volevano provare ed è giusto volerci provare perché è questa l'essenza del calcio quando scendi in campo non scendi in campo per perde mai a volte poi scende in campo per pareggiare ma quando ti serve vince scendi in campo per quello qualcuno mi dirà ma hai visto l'atteggiamento da gremonese fino a juventus primo tempo 70 30 71 29 qualcosa del genere l'avevano tatticamente impostata in quel modo perché con la juventus non è che ti puoi permettere di fare un po' sesso palla parte poi dipende però per come si era messa la partita belli abbottonati belli chiusi probabilmente speravano verso metà del secondo tempo no di restare sullo 0 a 0 per poi punire con una ripartenza punire con un contropiede e magari riuscire nel nel colpaccio non ci sono riusciti nel primo tempo diciamo che non è stata una partita proprio pienissima di situazioni pienissima di occasioni la partita si sblocca nel secondo tempo l'assist di chiesa per fagioli io continuo a ribadire a ripetere l'importanza e la dimensione dei giovani che allegri e gliene va dato merito ha inserito gioco forza anche per necessità per esigenza e che però questi ragazzi sono fatti troppo pronti ma non è che perché fagioli ha segnato allora lo incensiamo ragazzi dei fagioli se ne parla bene praticamente da quando ha esordito con con la juventus non è l'unico giovane che ha inserito a me piace tantissimo pure healing onestamente ma anche gli altri è lo stesso sulle lo stesso miretti sono tutti giocatori che per il futuro secondo me possono tornare utilissimi alla causa dal momento in cui la juventus la sblocca ragazzi è ovvio che comunque anche psicologicamente la gremonese si sente sempre più in serie b perché le partite diminuiscono sempre di più io non credo che sia ancora matematico ma ci manca veramente poco perché poi vado a vedere la classifica 24 30 meno 6 a tre giornali dal termine sono annati ragazzi mi dispiace onestamente perché poi soprattutto nell'ultimo periodo la reazione della gremonese c'è stata però alla fine secondo me oggi è giusto è giusto così troppa poca cremonese per questa juventus poi arriva il 2 a 0 del bremer che spezza definitivamente le gambe alla cremonese e il dato che sta passando inosservato è che comunque zitta zitta la juventus ragazzi c'è la bellezza dei 69 punti sono secondi in classifica adesso hanno consolidato il secondo posto perché aspetta no mi sa che già avevano scavalcato l'alazio stava di una stupidaggine comunque sono 69 punti per quanto poi dalla juventus ci si aspettava altro eh so secondi l'inter terza 66 la lazio a quarta 65 poi dovremmo rientrare nei meriti e dei discorsi dell'europa league rome via dicendo e non lo voglio fare e poi non so quello che succederà in termini di giustizia sportiva se verrà nuovamente penalizzata di quello ne parleremo in un contenuto dedicato ma ecco quello che doveva fare stasera la juventus sul campo alla fine l'ha fatto belle le magliette tra l'altro se volete ci faccio un contenuto dedicato hashtag lo voglio ma tanto lo faccio tutti gli anni in realtà con tutte le nuove divise di serie a io vi ringrazio per la visione e come sempre vi do appuntamento alla prossima con un nuovo video e vi auguro una buona serata ciao ragazzi